Cari lettori, so che questa settimana mi gioco un bel po' di visualizzazioni a causa della mancanza di Aldo, il mio cane molto esibizionista, che la settimana scorsa mi ha fatto guadagnare un record di presenze su questa piccola rubrica. Aldo non c'è, ma è come se ci fosse, anzi anche un po' offeso del fatto di essere stato escluso quest'oggi dalle attività del circolo. Però qui accanto a me un'altra bella cosa, sono dei fiori meravigliosi che i miei figli, grandi e lontani, mi hanno mandato il giorno della festa della mamma, riempiendomi di commozione, nostalgia e anche un po' di orgoglio per le belle persone che sono con me nella vita. Ma non volevo parlarvi naturalmente di me, dei miei familiari lontani. Volevo quest'oggi partire da una parola, anzi da un binomio di parole che ho imparato ieri e che credo il privilegio di imparare ancora, imparare parole o uso delle parole sia una dei dei doni della vita, continuare a imparare, a capire cose nuove. Questa espressione è persone piccole che vuol dire bambini naturalmente, ma che ai tempi in cui i miei bambini erano piccoli non si usava che non la conoscessi. Io invece l'ho trovata in una comunicazione di genitori che scrivono alle istituzioni in questi giorni e sono molto preoccupati per quello che è accaduto e quello che accadrà, non nel mondo fisico, ma nella testa e nel cuore dei loro figli e dei bambini che vanno a scuola. Persone piccole, a ben pensarci, è davvero una espressione giusta e tutti noi ce ne rendiamo conto. avere tre figli, come ho io, significa sin dai primi minuti di vita loro rendersi conto di avere a che fare con caratteri, attitudini, gestualità diverse. Non per niente c'è un'antica frase, un antico apologo ebraico che dice che il grande miracolo di Dio, il più grande che c'è mai stato è che avendo un unico stampo, cioè Adamo ed Eva, i nostri avi comuni, ebbene non è ancora riuscito il Dio o la natura a fare due esseri perfettamente uguali. Questa è anche la cifra della vita, la vita è tale e sopravvive proprio per il fatto che non ci sono due individui identici né nelle specie più elementari né in quelle chiamiamole più evolute. Quindi la persona è proprio la parola che definisce qualcuno che è diverso da te e che va rispettato nel suo insieme, nella complessità della tua, della sua identità. Per questo parlare invece di bambini, che è una parola dolce, che manca quando non ce l'hai più intorno, parlare di persone piccole e dare loro quella, chiamiamola dignità, ma quella complessità che abbiamo anche noi sin dal primo momento in cui viviamo. E queste persone piccole in queste settimane, che ormai possiamo chiamare mesi, hanno vissuto un'esperienza difficile, piena, fatta tutta di incertezze, hanno completamente perso la loro vita di prima e ne hanno acquisita un'altra che non conoscevano perché la casa, erano certo come tutti noi, rinchiusi dentro casa, ma la casa è diventato per loro qualcosa di molto diverso da quello che era prima. Per quel che posso vedere intorno a me, queste piccole persone sono state forti, intelligenti, hanno quasi sempre saputo adattarsi a questa nuova vita, ma senza mai perdere, spero, la speranza di poter tornare a quella di prima. E in questo momento di transizione vanno forse aiutati, anzi senza forse, vanno aiutati più di tutti perché vedersi capovolgere la vita a quell'età, all'età in cui si è ancora persone piccole, è qualcosa di veramente complicato che lascerà tracce. Dobbiamo, il circolo lo sta pensando, dobbiamo essere accanto a loro e con loro più che mai, con delle attività che ci inventeremo in luoghi che dobbiamo ancora trovare, ma che io spero con tutto il cuore di poter trovare per accompagnare queste persone piccole a riaprire la finestra, rivedere il mondo, ricominciare a stare insieme vicini, mentre ora dobbiamo stare insieme un po' distanti. Cominciamo anche ad aiutarli con delle letture magari, leggere ad alta voce anche a bambini che sanno, anzi scusate, a persone piccole che sanno leggere. Io penso a dei personaggi come Pippi Calzelung, come Tom Sawyer, che mi hanno aperto delle finestre quando ero bambina perché avevano talmente tante cose da raccontare, da farmi scoprire che ancora me li sogno di notte. Ma bene, non sono incubi, sono viaggi. Quindi accompagniamo le persone piccole e continuiamo a chiamarle così, che mi pare molto molto bello.